Weila, benvenuti! Oggi parleremo del Gran Premio del Bahrain. Il circuito sorge nella periferia di Manama, che è la capitale del Bahrain, in località Sakir. È composto da 15 curve e de lungo 5,412 chilometri, il che ci porta a dover fare 57 giri per raggiungere il limite di 305 chilometri, che ci consente di completare un Gran Premio. È stato progettato da Herman Tilke, che è lo stesso progettatore che precedentemente aveva disegnato anche Sepang in Malesia. Il tracciato ha visto la luce dopo 16 mesi di lavori due settimane prima del 4 aprile 2004, la data in cui si è disputato il primo Gran Premio del Bahrain, nonostante alcune strutture di supporto del circuito non erano ancora state completamente terminate. I punti di sorpasso principale saranno 3 e saranno quelli in fondo i rettilinei di RS. Purtroppo questi punti di sorpasso non ci daranno sicuramente grandissimo spettacolo, visto che molto spesso i sorpassi verranno chiusi prima della fine del rettilineo. Nel caso però di curva 1, 2 e 3 ci troviamo davanti ad una situazione un po' diversa, visto che spesso in questo punto si arriva con i piloti ancora appaiati e qui, avendo anche la pista molto larga, si possono sfruttare sia la linea esterna che la linea interna per portarsi avanti rispetto all'avversario. Sfruttando la linea interna si ha il favore di traiettoria nel primo tornante e poi in curva 3, mentre sfruttando la linea esterna si ha modo di, staccando molto forte, trovandosi più avanti dell'avversario, riuscire a contenere l'avanzamento causato dal favore di traiettoria in curva 1 e di sfruttare curva 2 per mantenere la posizione. Un altro punto in cui mi piacerebbe intanto vedere dei sorpassi sicuramente è curva 8, molto probabilmente avverrà perché è un punto di sorpasso che abbiamo già visto utilizzare diverse volte, si arriva dallo snake ad una velocità abbastanza elevata e si fa questa forte staccata per entrare in questo tornante. Questo punto del tracciato è particolarmente interessante proprio per questo, trovandosi dalla parte interna si può riuscire a costringere l'avversario ad allargare un po' la traiettoria e quindi riuscendo a tenere la linea interna si può riuscire a sorpassare. Sicuramente ci sono altri punti ma questi sono quelli che credo saranno i punti principali in cui vedremo effettivamente dei sorpassi. Andiamo ora a vedere nel dettaglio un giro del circuito raccontato da me in maniera da farvi anche un po' capire più o meno quali possono essere le emozioni che vengono provate effettivamente dai piloti durante un giro. Il lungo rettilineo ci porta alla mostruosa staccata di curva 1, staccata che in 140 metri si porta da 320 a 60 km per affrontare la curva a destra in seconda, poi si ingrana subito la terza facendo short shifting per gestire meglio i cavalli e avere la trazione necessaria per rivedere le curve 2 e 3 che portano sul secondo rettilineo di RS. La staccata di curva 4 ci porta a scendere in quarta lanciando la monoposto oltre il cordolo esterno per poi allargarsi per affrontare questo snake, entrando all'imitatore di sesta per poi scendere di giri e riaccelerare portando nuovamente all'imitatore la sesta prima della seconda staccatona per affrontare curva 8 in terza marcia. Utile per avere trazione in questa salita che porta le curve 9 e 10, probabilmente la staccata in trail braking più tecnica del mondiale. Si scende nuovamente in terza per poi spararsi full gas sul terzo e ultimo rettilineo di RS. Si stacca in quarta lanciando l'auto in curva 11, lasciando scorrere all'esterno per poi richiamarla a sinistra. Curva 12 è proprio dietro l'angolo ma qui bisogna lottare con la forza G con il posteriore che vuole scappare da questo ennesimo cambio di direzione brutale e invece no, si stacca fino alla quarta e si lancia di nuovo la monoposto a destra per poi accompagnarla a sinistra fino a mangiare il cordolo, coscienti che ci separa una sola curva dal traguardo. Si scende in quarta accompagnando l'auto a sinistra, stando attenti ai track limits si scorre su tutto il cordolo esterno per poi far urlare il motore fino a tagliare il traguardo. Parliamo ora dei layout in questo circuito. Nel circuito Grand Prix si è corso dal 2004 al 2009 e dal 2012 ad oggi, mentre in occasione dei 60 anni della Formula 1 nel 2010 è stato utilizzato il circuito Endurance molto più lungo con 24 curve e 6,299 km, il che ci porta a capire che servono 49 giri per effettuare e raggiungere il limite di 305 km necessari al completamento di un gran premio. La pole position fu fatta da Sebastian Vettel su Red Bull e fu di 1 minuto 54 secondi e 101 millesimi, mentre la gara venne vinta da Alonso su Ferrari e fece anche il giro veloce in 1 minuto 58 secondi e 287 millesimi. Nel 2020 ci furono molte gare annullate e erano disponibili meno località, quindi si è deciso di fare due Gran Premio del Bahrain chiamando il primo Gran Premio del Bahrain e il secondo Gran Premio di Sakhir. Il Gran Premio di Sakhir fu corso nel Outer Circuit mentre il Gran Premio del Bahrain nel normale circuito GP che abbiamo visto poc'anzi. L'Outer Circuit è un circuito più corto, ha solo 11 curve ed è lungo 3,543 km. Per concludere i 305 km e quindi completare un Gran Premio servono addirittura 87 giri di questa versione del tracciato. Il circuito corre lungo l'anello esterno della pista e la pole position in questa occasione è stata fatta da Valtteri Bottas che ha percorso un giro in veramente pochissimo tempo anche per la Formula 1, 53 secondi e 377 millesimi. Il giro è anche stato il giro più veloce della storia della Formula 1 battendo il record precedentemente di Michi Lauda su Ferrari che aveva ottenuto in Francia in occasione del Gran Premio di Dijone del 1974 in cui percorse un giro intero del circuito in 55 secondi. La gara fu poi vinta da Perez su Racing Point, questo fu anche il suo primo successo in carriera oltre che essere il primo successo della Racing Point in Formula 1 e la Racing Point riuscì a avere anche il secondo pilota sul podio, per essere più precisi sul terzo gradino del podio Lance Stroll, mentre al secondo posto arrivò Esteban Ocon su Renault. Oltre a questi layout ce ne sono altri due che però in Formula 1 non sono mai stati utilizzati, uno si chiama Paddock Circuit e l'altro si chiama Oasis o Inner Circuit. La struttura oltre a questi due tracciati comprende un ovale e una striscia di accelerazione per Dragster, striscia di accelerazione che tra l'altro è il terzo rettilineo di RS in cui si entra dopo curva 10. Veniamo ora alle curiosità e alle peculiarità di questo evento e di questo circuito. Il tracciato è stato voluto dal principe del Bahrain ed è così importante per lo trovarsi stampato dietro alle banconote da mezzo di NAR. Un'altra curiosità interessante è che nella zona circostante, nei giorni prima dell'evento, viene spruzzato uno spray sulla sabbia che circonda tutto il circuito per fare in modo di appesantirla e di non farla arrivare sul tracciato durante i giorni di gara. Un'altra peculiarità è che viene utilizzata l'acqua di rose sul podio. Questo nonostante in Bahrain non sia vietato l'utilizzo di alcol e quindi diciamo che non c'è un'effettiva spiegazione, un'effettiva motivazione per utilizzare l'acqua di rose al posto del classico champagne. Come prima abbiamo detto dal 2004 al 2009 si è corso in questo circuito, mentre nel 2010 c'è stato l'evento dei 60 anni e si è utilizzato il circuito Endurance. Nel 2011 invece il Gran Premio è stato annullato a causa di delle proteste antigovernative. È stato tentato lo spostamento nel calendario del Gran Premio, ma purtroppo non c'è stato modo ed è stata anche eliminata poi la possibilità del rinvio. Il rischio di annullamento si è poi ripetuto nel 2012 ma alla fine la gara si è riuscita a fare. Ci sono state delle rivolte però dirette alla Formula 1 che era accusata di essere uno strumento di propaganda della Casa Reale. Nel caso proprio di Force India e Sauber si sono verificati dei veri episodi di violenza, tanto che Force India ha poi saltato FP2 nella seconda sessione di prove del venerdì e a causa di questo il sabato durante le qualifiche è stata inquadrata meno. Se vi sembra un problema da poco, pensate che in Formula 1 i team ricevono i soldi dagli sponsor anche in base a quanto le auto vengono inquadrate durante le varie sessioni. Quindi il fatto che un'auto non venga inquadrata per una intera sessione di qualifica o che venga inquadrata poco può essere un problema per gli sponsor. Veniamo ora all'ultima curiosità riguardante il Gran Premio del Bahrain. Si parla del 2014 e si parla dell'anno in cui è stata dedicata Curva 1 a Michael Schumacher ma anche dell'anno in cui il Gran Premio è stato spostato in orario per diventare un Gran Premio notturno. Questo a causa delle temperature molto alte del Bahrain che mettevano in crisi motore, gomme e freni. Pensate che nel 2005 il Gran Premio del Bahrain è stato anche il Gran Premio più caldo della storia, raggiungendo i 44 gradi. Parliamo ora di un avvenimento molto importante. L'avrete già sicuramente capito dalle immagini dietro di me. Stiamo parlando dell'incidente di Romain Grosjean del 2020. L'incidente è avvenuto durante la prima gara, quella sul circuito tradizionale, quindi durante il Gran Premio del Bahrain. L'impatto è avvenuto dopo Curva 3, quindi sul secondo rettilineo di RS. Grosjean si sposta verso destra senza guardare gli specchietti. Si sposta di colpo e non è possibile per Dani Kvyat evitare l'impatto. Colpisce con la sua ruota posteriore destra, l'anteriore sinistra dell'Alfa Tauri. Dopo questo impatto non forte, ma ad altissima velocità, l'auto di Romain Grosjean si alza da un lato, comunque non permettendo una reale frenata utile, e si schianta con un impatto frontale a 240 all'ora contro il guardrail posto all'interno del tracciato. Riguardo a questo incidente si è detto tanto, ma forse non abbastanza. Durante l'impatto l'auto si è divisa a metà e questa cosa ha fatto scattare, diciamo, una scintilla per molte persone. In tanti si sono lamentati di questa cosa trovandola un particolare sconcertante in Formula 1. In realtà questa cosa non è sicuramente un difetto del telaio, che ricordiamo essere un telaio dall'Ara costruito in Italia, ma è una cosa voluta. Questa cosa succede anche sulle auto stradali. Se pensiamo ad auto come Ferrari, Lamborghini, che hanno il motore in posizione centrale o posteriore, è possibile separare la cellula di sicurezza dell'auto da quello che è il motore, quindi da quella che è la parte che rappresenta la maggior pericolosità al momento di un impatto. Questo anche perché, in caso di un impatto contro una superficie, il motore sarebbe comunque la parte che porta la maggiore inerzia e quindi spingerebbe sulla cellula di sicurezza rischiando di comprimerla. Rendere questa parte, diciamo, staccabile fa in modo che tutta l'inerzia del posteriore, invece che finire sulla cellula di sicurezza, possa staccarsi e spostare più lontano possibile la parte pericolosa dal resto del veicolo. Questo succede anche nelle auto di Formula 1, viene fatto creando un punto di rottura controllato nel telaio, quindi diciamo che se nella sua interezza il telaio resiste ad una determinata forza, viene creato un punto in cui il telaio resiste ad una forza inferiore, quindi in caso di impatto, l'auto si romperà proprio in quel punto. Questa cosa è stata veramente utile in questo incidente, impedendo appunto che la parte posteriore schiacciasse ulteriormente l'auto, che nonostante tutto è riuscita a passare con tutta la parte della cellula di sicurezza oltre il guardrail. E qui veniamo al secondo discorso, quello che riguarda appunto questo guardrail che tanto è stato criticato. In molti hanno detto che avrebbero preferito vedere un muro in quel punto piuttosto che un guardrail, beh pensate che se al posto del guardrail ci fosse stato un muro, probabilmente adesso staremo piangendo Roma in Grosjean. Un'auto che impatta 240 km orari contro una superficie immobile, che non attutisce in nessun modo l'impatto, ovviamente restituisce una forza G esagerata non sicuramente sopportabile per il corpo umano, mentre questo guardrail ha veramente attutito di molto l'impatto. L'alo ha risparmiato la vita a Roma in Grosjean. In questa parte della superficie l'alo ha colpito il guardrail sollevandolo e impedendo al guardrail di colpire sul volto Romain. Sicuramente questo è uno degli aspetti più importanti riguardo alla sicurezza degli ultimi anni. L'alo ha salvato già diverse vite, ci sono diversi video che possono dimostrarlo, è sicuramente un componente che anche se all'inizio è stato molto criticato, ora si è dimostrato veramente indispensabile. Un'altra cosa che sicuramente in questo incidente ha influito molto sono gli abiti, la tuta che portano i piloti di Formula 1 in un tessuto chiamato Nomex e questo tessuto è ignifugo e resistente ad altissime temperature. Tutto questo ci fa pensare e ci fa capire che a volte è meglio cercare di informarsi un po' di più prima di criticare degli aspetti di uno sport del genere. Ma se proprio dovessi sporgere una critica sicuramente non sarebbe su questo circuito che è anche stato premiato in quanto a sicurezza e a personale come uno dei migliori. Mentre per esempio se dobbiamo veramente discutere di un circuito che sembra essere poco sicuro, potremmo citare Jedda, la prossima gara in campionato, ma anche il circuito di Miami che l'anno scorso si è dimostrato problematico proprio per il motivo per cui questo guardrail invece non lo è. Aveva un muro solido al posto di un guardrail. È stato un bel problema perché un pilota ha picchiato e gli è stata restituita una botta non indifferente. Di questo ne parleremo in un prossimo video, nel video che parlerà appunto del Gran Premio di Miami. Fatemi tenere qualche piccola chicca per quel video, visto che ci sarà relativamente poco da dire, specialmente rispetto a Gran Premi come il Bahrain o come Spa che invece ci sono da tantissimi anni in Formula 1. Siamo giunti alla fine di questo video, però voglio ricordarvi che solo quattro volte negli ultimi dieci anni il Polman ha poi vinto la gara, lo vediamo qui dietro di noi l'ultima volta, è stato Charles Ecclerc l'anno scorso. Oltretutto la prima gara non porta molta fortuna ai piloti, anche perché solo due volte negli ultimi dieci anni il pilota che ha vinto la gara iniziale del Mondiale ha poi vinto il Mondiale. Quindi forse, se anche voi come me siete tifosi Ferrari, c'è da non sperare troppo in una vittoria per la prima gara di campionato. Con questo vi saluto e vi invito anche a seguire il canale se vi è piaciuto questo video perché usciranno i video sui prossimi Gran Premi, quindi sui prossimi circuiti del Mondiale di Formula 1 e oltretutto nel canale usciranno anche altri nuovi format. Ovviamente questo è un canale in costruzione, quindi vi chiedo un po' di pazienza se non c'è molto materiale adesso verrà integrato del materiale molto presto. Grazie e ci vediamo al prossimo video.